Le Marche sono state protagoniste nella serata organizzata da Rosso di Sera in collaborazione con Cinema Italia UK in occasione del nuovo film di Riccardo Scamarcio, L'Ombra del Giorno, regia di Giuseppe Piccioni. Proprio come nel film di Scamarcio, i partecipanti hanno potuto degustare prodotti tipici marchigiani che tra salumi, formaggi e vini hanno allietato l'evento diventando protagonisti indiscussi dei palati londinesi. Vini delle Marche sono dei vini molto importanti, soprattutto sono molto conosciuti da chi è nel settore, da tecnici sommelier. Il vino più importante delle Marche, tra i bianchi, è il verdicchio sicuramente, anche se negli ultimi anni il pecorino e il bianchello stanno venendo fuori molto bene. E tra i rossi sicuramente il Montepulciano, il Montepulciano con il Rosso Conero è uno tra i rossi più importanti, poi se vogliamo parlare di vini un po' più delicati ma molto particolari parliamo della lacrima di morra. Come succede spesso per i diversi vitigni, si adattano molto bene alla zona dove arrivano e poi storicamente rimangono perché lì producono bene. Le Marche hanno questa forma a pettine, con tutti questi fiumi che vanno perpendicolari verso il mare, che quindi creano una serie di vallate, sono perfette per la produzione del vino. Tutte queste colline, dolci colline, che vanno verso il mare e quindi sul crinale di queste colline sono i luoghi migliori per poter produrre. E poi la varietà, la varietà del suolo, si parte da una parte più mista tra sabbia e argilla per arrivare a zone dove l'argilla è un po' più compatta, dove c'è quindi un terreno un po' più astero che è perfetto per la produzione di vini più importanti. In anteprima, un estratto dell'intervista fiume realizzata con l'attore italiano che presto vedrete sui canali di Complitaly. Ah, lo devo fare io il bilancio? No, fallo tu il bilancio, ok? Ma per me il bilancio è positivo. Eh, allora, dillo, cioè, di che cosa, cioè, non lo so, io il bilancio non mi interessa, non li faccio mai. L'amore è inspiegabile, è un sentimento che dovrebbe governare il mondo. Mi rendo conto però invece che questo mondo in cui viviamo invece è governato dalla paura. Ma che sta succedendo, ragazzi? Ma che cazzo sta succedendo? Lo dico proprio, che cazzo sta succedendo? Ma siamo fuori. Ma perché ogni tanto qualcuno che dica un po' che dà fastidio serve, non perché è quello che dica io, ma tanto per cambiare un attimo il punto di vista. Ogni tanto, no? Uno dice, vai, guardiamo un attimo di qua la situazione. Sicuramente è più giusta l'altra, eh? No, 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 per carità. Però, ciao ragazzi, buon anno, eh? Delle Vigne, la most helpful accountancy service in the United Kingdom. Grazie. Grazie.